Contratti di lavoro fasulli per permessi di soggiorno, quelli veri però che consentivano così agli immigrati anche di ottenere l'indenità di disoccupazione. Sono state così scritte nel registro degli indagati dalla procura di Arezzo una sessantina di persone tra falsi datori di lavoro e lavoratori fasulli a seguito di un'inchiesta che aveva preso avvio nel 2015. Nel corso delle indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno sono stati svolti accertamenti su decine e decine di contratti di lavoro. Le fiamme gialle hanno così portato alla luce un vero e proprio giro di false assunzioni. Truffa, falso e violazione delle norme sull'immigrazione sono i reati ipotizzati dalla procura a carico di 62 persone, tutte residenti in provincia di Arezzo. Indagati sono cittadini stranieri, comunitari e non che si sarebbero prestati per registrare rapporti di lavoro fasulli come colfe badanti regolarmente registrati tramite CAF. Grazie a questi contratti venivano rilasciati loro permessi di soggiorno, gli immigrati infine potevano anche percepire l'indennità di disoccupazione. Sono circa 30.000 euro gli indennizi erogati e indebitamente percepiti. Al momento sono in corso anche alcuni accertamenti sull'attività di un impiegato di un CAF. Le indagini svolte in collaborazione con l'Inps e il dispettorato del lavoro sono ancora in corso e potrebbero portare alla luce nuovi casi. Le fiamme gialle retine infine hanno scoperto anche un'altra decina di contratti fittizi. In questo caso gli immigrati erano stati assunti come colfe e badanti mentre in realtà facevano gli operai un raggiro che consentiva di pagare contributi più bassi.